Musica Apriamo con le immagini di un sogno ormeggiato la banchina di Punta Riso. Chi di noi non ha pensato almeno una volta di andare in crociera? Ora anche questi giganti del mare sono stati fermati dal coronavirus e ognuno di loro ha trovato rifugio in un porto italiano in attesa che la pandemia sia finita per poter ritornare a navigare per i mari del mondo. A Brindisi è stata destinata la costa Fortuna di Costa Crociere lunga 270 metri e arrivata oggi nel porto di Brindisi. Il suo equipaggio, pensate, è di quasi mille persone. I passeggeri torneranno a farla rivivere tra non meno di due mesi. E in una Domenica delle Palme unica nella storia arrivano per fortuna notizie incoraggianti, ancora una volta, dal bollettino della Regione. Positivi al Covid-19 in calo in tutta la Puglia e un numero di guariti che comincia a diventare importante. In provincia di Brindisi 12 positivi e nessun decesso. 77 i casi positivi quest'oggi secondo il bollettino della Regione in Puglia su 1.103 test effettuati. Vedete la percentuale del 6,9%. Ieri si aggirava intorno al 5,5% mentre alcuni giorni fa superava il 10%. Quindi aumentano anche i casi negativi, 1.026% e aumentano anche i guariti che sono 113%, quindi più 19 rispetto a ieri. 9 i decessi registrati anche oggi, nessuno in provincia di Brindisi, 5 in quella di Foggia, 3 a Lecce e 1 nella Bat. La provincia di Brindisi ha 12 nuovi casi, 28 Bari, 9 Bat, 18 Foggia, 6 Lecce e 2 Taranto. Complessivamente 246 nella provincia di Brindisi, 790 in quella di Bari, 138 nella Bat, 564 a Foggia, 368 a Lecce e 182 a Taranto. I casi positivi ad oggi, domenica 5 aprile 2020 in Puglia, sono 2.317. Andiamo sulla cartina della Puglia, guardiamo il dato in proporzione al numero degli abitanti. Cresce ancora leggermente quello della provincia di Brindisi che adesso è di 6,20 casi ogni 10.000 abitanti. Dicevamo una Domenica delle Palme vissuta in maniera particolare con le funzioni religiose che sono state condivise attraverso il web dalle parrocchie e la diretta televisiva della celebrazione tenuta dall'Arcivescovo Domenico Caliandro su Canale 85. Ma come hanno affrontato i fedeli questa dimensione così diversa di una Domenica di preghiera? Lo abbiamo chiesto a Don Mimmo Roma, parroco della Cattedrale di Brindisi. I bambini della Catechesi si sono impegnati molto nel fare le palme con i cartoncini, dipingerli e li hanno mandati felicissimi di tutto ciò che avevano creato. Ma non solo loro, c'era qualche genitore che a parte mi mandava la foto e dice a Don Mimmo veramente questo l'ho fatto anche io, perché si ritorna anche bambini. Noi verso le 11.30 ci colleghiamo in diretta Facebook con i parrocchiani dalla pagina Facebook della Cattedrale e c'è questo dialogo. C'è stato un politico molto noto che ha suggerito che vengano riaperte le chiese per la Domenica di Pasqua. Secondo lei è una scelta opportuna questa? Gianmarco, diciamo che il parterre mediatico è pieno di opinioni. La verità è quella che abbiamo delle indicazioni da seguire e come chiesa siamo i primi testimoni di fare le cose per bene. Poi le chiese noi non c'è bisogno che le riapriamo perché sono aperte. La cattedrale della nostra bella città è sempre aperta perché per la preghiera personale si può venire in chiesa. Devo dirti un grande senso di responsabilità da parte anche dei fedeli cristiani. Sai, in questo periodo ci sono i momenti forti, anche le varie processioni, i vari momenti proprio devozionali che fanno da collanti anche alla comunità. Però la gente sta riuscendo ad andare oltre. Guarda, i bambini che hanno fatto le palme è una capacità di problem solving particolarissima perché non si sono fermati a dire ma non dobbiamo venire le palme. Invece no, hanno trovato la soluzione e subito si è attuata. Non c'è bisogno che creiamo problemi. Noi i problemi dobbiamo aiutarli a risolvere, non a crearli. Intanto in un periodo di crisi che accomuna tutti quegli imprenditori che vivono anche intorno al business degli sposi c'è chi è riuscito a evitare il tracollo nonostante gli 80 matrimoni annullati. E' il titolare Dispositive, una società brindisina che offre musicisti di qualità per accompagnare le feste di nozze. Peppe Quartulli aveva creato un fondo salva stagione con il quale è riuscito a pagare ugualmente tutti i suoi musicisti. Abbiamo tutelato quello che è la stagione attuale, la stagione dei musicisti, perché come tutti sappiamo ogni musicista va a lavorare per date, quindi se non ha date non guadagna. Due anni fa ho fatto questo fondo salva date perché, pensandola a lungo termine, perché comunque sono una persona che vuole continuare a fare business per anni, pensando a lungo termine ho detto ma ci sarà sicuramente qualche coppia che va a togliere delle date. Siccome i miei musicisti mi firmano un contratto di esclusività, quindi lavorano solo con Spositive, ho detto benissimo, creiamo questo fondo che non è altro che una quota che metto da parte dai compensi, dai vari compensi, dai contratti che noi andiamo a chiudere con gli Spositive. Poi è successo quello che è successo e quindi non mi sarei mai aspettato in una calamità del genere. Adesso reagiamo, perché come dico sempre noi siamo il frutto delle nostre azioni e delle nostre reazioni. Quindi adesso reagiamo per conquistare di nuovo il mercato l'anno prossimo e riprendere tutto quello che era nostro. La polizia locale di Brindisi ha ritrovato in campagna 200 litri di olio di girasole, che sono parte del bottino di quel furto compiuto qualche giorno fa ai danni della Caritas. Al di là dell'atto vergognoso fanno ancora più male queste immagini di beni che erano stati donati per aiutare le famiglie più bisognose e che sono stati buttati via come rifiuti dopo essere stati indegnamente rubati. Da oggi però vogliamo chiudere il nostro appuntamento con qualcosa di positivo, anche perché le notizie cominciano ad essere davvero incoraggianti e dunque ci spingono a tenere ancora più duro. Da oggi dunque una finestra sull'arte che ci regalerà quotidianamente il professor Massimo Guastella. Grazie per la visione!